Domenica 23 settembre e domenica 30 settembre grande evento a Ozzano Emilia, provincia di Bologna, dalla ditta Magli, storico e importante concessionario di settore, uno di quelli che fattivamente ha costruito in questi anni un mercato serio e corretto, in questi decenni anzi. Per tutti coloro che cercano un camper nuovo a marchio Imer, un furgonato a marchio Imercar, una caravan a marchio Eriva o un veicolo decisamente prestigioso, quale può essere un Isman Bishop, ecco il punto di riferimento, non solo, ma ci sono anche degli usati che vengono sempre venduti come Magli ci ha insegnato in questi decenni a fare, ci sono gli accessori, c'è tutto quello che riguarda la vita in campeggio e all'aria aperta. Si tratta di un evento importante, ripeto, perché in questi decenni la ditta Magli si è comportata sempre, non so se avete presente, è un po' come una sartoria, cioè non cerca di affibbiare la qualunque cosa a chiunque, ma cerca di fornire il prodotto esatto, preciso, per esigenze di quel nucleo familiare o di quella coppia. Quindi in qualche modo, diciamo, se mi è concesso il paragone, si tratta più che di una concessionaria di veicoli razionali, di una sartoria che riesce a costruire il mezzo adatto alle esigenze della persona. Quindi appuntamento a tutti quanti da Magli, domenica 23 e domenica 30 settembre.